Ma vi ricordate quei bei tempi anche abbastanza recenti, ragazzuoli, in cui si parlava del perché si avvelenano i pozzi? Ormai c'è un clima irrespirabile quando si deve parlare di calcio italiano e della corsa a scudetto. Non si può andare avanti così, bisogna evolversi dal punto di vista culturale e iniziare a parlare di calcio per quello che è, per quello che soprattutto vediamo in campo ma fatto dalle due squadre del cuore, perché altrimenti non va bene, altrimenti non va bene e non c'è una narrazione giusta attorno al calcio, poi si perde di interesse e non si fa altro che spargere clima d'odio. Infatti ragazzuoli io dico la verità, non aspettavo altro che questa settimana, perché sappiamo purtroppo anche perché no, che è la settimana che porterà ad Inter-Juventus per vedere quella che sarebbe stata la narrazione giornalistica in avvicinamento alla partita in questione. Ed ovviamente la Gaza non ci ha tradito, non ci ha tradito per nulla e ha rispettato a pieno le aspettative, condendo il tutto ovviamente con la solita disinformazione perché è a tutti gli effetti questo nel momento in cui magari nella gazzetta di oggi, tanto per cambiare parlando di vari sorpassi e quant'altro, quale episodio verrà mai citato, quale immagine verrà mai messa a 27 anni di distanza, no? Poi è bellissimo che ti parlano, no? Magari te quando vai a ricordare un episodio di due o tre anni fa, cazzo questi continuano a tramandarsi di generazione in generazione episodi di 27 anni fa, ma per l'amor di Dio, è un altro paio di maniche. E appunto, che cosa c'è scritto sotto l'immagine del contatto Ronaldo-Iuliano? La partita dello scontro Ronaldo-Iuliano, il rigore di Del Piero subito dopo parato dall'espulsione di Simoni. La Juve vince 1-0 ed è sorpasso Scudetto, come no? Per alimentare il fatto che con il furto del secolo la Juventus ha superato l'Inter, in classifiche, nonostante mancassero poi tre giornate dalla fine, in due delle quali la Juventus ha pareggiato contro il Piacenza e contro l'Atalanta, quindi potenzialmente nonostante tutto aveva modo anche di perdere quello Scudetto lì, ma è un altro paio di maniche. Però lì è avvenuto il sorpasso, perché prima della partita l'Inter era davanti, ma dopo il furto del secolo si è ritrovato in un qualche modo dietro a causa del sorpasso. C'è quello che non è proprio la verità. Gaza, mi stupisco che in particolar modo voi, che avete un legame anche abbastanza stretto di partnership con uno dei due club coinvolti, non vi ricordiate semplicemente come sono andati gli eventi e che la Juventus in quella partita si era già presentata davanti all'Inter. Di un punto, per l'amor di Dio, quindi in caso di vittoria Inter sì che ci sarebbe stato a tutti gli effetti il sorpasso, ma nel momento in cui l'Inter quella partita l'ha persa non c'è stato nessun tipo di sorpasso. Era sotto di uno prima, si è ritrovata sotto di quattro, dopo banalmente nel momento in cui è andata a perdere lo scontro diretto e chissà se fosse stato dato il rigore anche abbastanza plateale su Inzaghi per fallo di West. Magari no? Come, in quale modo si sarebbe presentata poi la Juventus nella partita di ritorno? Con quale vantaggio? Vedendo che all'andata l'Inter ha vinto, ma nonostante tutto anche lì c'era stato un episodio che capisco sia abbastanza difficile da ricordare, soprattutto se lo devi fare magari perché no a distanza di 27 anni, ma nel momento in cui un episodio a distanza di 27 anni viene puntualmente riproposto con tanto di contorno dedicato a quelli che erano i tesserati di una singola squadra delle due dell'epoca che comunque no, puntualmente vengono riesumati per fare considerazioni, interviste e quant'altro. Sarebbe stato carino per una volta farlo anche dall'altra parte, ma posso capire che dalla Gaza non ci si può neanche aspettare nulla di particolarmente diverso, dove tra le altre cose appunto poi la Juventus nelle tre partite successive, quindi con nove punti a disposizione, non è che ne abbia portati a casa tantissimi, beh, Donor del Vero ne ha portati a casa comunque più dell'Inter, ne ha portati a casa comunque più dell'Inter, perché nelle tre partite successive la Juventus ha totalizzato cinque punti e l'Inter solamente quattro, se non sbaglio, perdendo contro il Bari, poi ha vinto l'ultima giornata e pareggiata nella partita, cioè nella giornata successiva dove anche la Juventus aveva appunto pareggiato in casa contro il Piacenza, se non sbaglio, o comunque contro il Piacenza era arrivato 1-0-0, quindi potenzialmente, no? Sì, sarebbe cambiato relativamente poco ai fini della vittoria finale, nel momento in cui la Juventus quei quattro punti li aveva fatti e quei quattro punti sono serviti a tutti gli effetti per andare a vincere lo Scudetto, però è una narrazione abbastanza particolare quella della Gazzetta dello Sport, che poi ultimamente, vedendo anche quelli che sono stati proprio gli eventi delle ultime giornate di Serie A, in molti, proprio di quella tifoseria che recrimina a 27 anni di distanza lo stesso identico episodio, mi viene detto, beh, comunque, no? Abbiamo visto che contro il Verona e contro la Fiorentina poi se i rigori vengono dati, anche se non ci sono, devono comunque venire segnati. Ecco, questo è un altro caso. L'arbitro, a parte che aveva giudicato correttamente, e va bene, è un altro paio di maniche, tanto che anche lo stesso arbitro a distanza di 20 anni è ritornato sull'episodio e ha ribadito la stessa cosa, ma va benissimo. E poi comunque, anche se volete il secondo furtarello degli scontri 97-98, perché quello dell'andata evidentemente non era bastato, poi bisogna buttarla dentro anche nella partita di ritorno, perché poi mi si dice, vedete, poi i rigori bisogna farli. Sì, qui si dà tutti quanti per scontato che quel rigore sarebbe stato segnato al 100%, no, evidentemente no. Evidentemente non è così. E quindi, mi dispiace, e faccio finta anche di stupirmi, per l'amor di Dio, di quella che è la narrazione giornalistica attorno a ogni qualsiasi tipo di partita contro l'Inter, dove appunto, magari una volta così per coerenza, per ribaltare anche un attimino la situazione, più che per coerenza, perché non sarebbe coerenza, ci starebbe farlo anche per episodi accaduti dall'altro lato, perché si fa facile, è facile dire poi magari, beh, non esistono, no, purtroppo esistono e non sono neanche proprio pochissimi ad onor del vero. Poi, se ci si tende a dimenticarli per convenienza, dopo lì è tutto un altro paio di maniche, per l'amor di Dio, che posso anche pienamente capire, assolutamente, soprattutto quando si vuole mandare avanti una narrazione di un certo tipo, ma questo noi lo sappiamo già benissimo tutti quanti e non lo scopriamo di certo oggi, però veramente è incredibile. Poi, sempre in prima linea, eh, per l'amor di Dio, a parlare di pozzi avvelenati e situazione del calcio italiano invivibile a livello mediatico, perché si parla solo ed esclusivamente di episodi, quando poi, puntualmente, quando interessa, siete i primi, tutti quanti lì, in prima linea, a mandare avanti un certo tipo di narrazione che d'altronde, appunto, avete costruito, quantomeno da 27 anni. Se dobbiamo poi andare magari a ripensare a Turone e quant'altro, superiamo anche la quarantina, e poi però non vi potete neanche stupire se accade anche il contrario, se accade proprio nei confronti di chi difendete a spada tratto, fate passare per vittime da decenni a questa parte. Non vi potete neanche troppo stupire, siete stati i primi voi a indottrinare la gente, a ragionare in un certo modo, e poi vi stupite quando magari cambia la squadra di riferimento e magari si passa da una all'altra e non va neanche poi così tanto bene. È un pochettino incoerente, appunto, ed è proprio per questo che dal mio punto di vista almeno siete veramente meravigliosi, perché continuate ad alimentare, ad alimentare, ad alimentare, quando cambia l'obiettivo no, così non va più bene, così non va più bene perché non è minimamente questo il modo di raccontare il calcio, non si deve minimamente raccontare in questa maniera qui. Poi però vediamo, oltre che le solite cose pure condite con della disinformazione perché toh, non guasta mai, magari in 27 anni i lettori sono cambiati e magari raccontando delle balle, magari possono credere comunque a questa avversione perché magari di fatto vogliono sentirsi dire proprio quelle cose lì e quindi tutto sommato toh, perché non farlo? Gaza, 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 ma sciamai, sciamai puoi muovere qualche tipo di critica, per l'amor di Dio, per l'amor di Dio.